Ok, Hardcore Crea Volevo solo far vedere le mie impostazioni Visto che sei una cultrice delle shaders Io sono andato un passetto avanti alle shaders Nel senso che le shaders sono fighe Però diciamo che è un po' poco per me Potete notare in alto a sinistra 113 fps 125 Non male, non male Come vedi è molto graficato sto gioco qua Ho messo anche il Ambiental Occlusion Quando guardi una cosa vicina il resto è svuocato L'effetto c'è un altro grafico, no? Un po' figo Potrei vedere anche le animazioni delle capre qua Ah sì Altra cosa che ho messo sono i suoni delle caverne Migliorati insomma L'unica cosa delle shader molto fighe Molto fighe Però non si vede una sega Sono morto, sono morto, sono morto Beautiful Minecraft Beautiful Minecraft Mi stai scrivendo tu in questo momento Mi hai chiesto come hai fatto da avere l'icona di Minecraft È la rottura della quarta parete Come noterai anche le animazioni dei mob sono migliorate Nonché la texture degli spider Molto figo tutto quanto Però Minecraft mi ranna Cioè è relativamente male Se possono essere considerati mali 80 fps ovviamente Però sì Diciamo che ci sono cali di frame molto frequenti Soprattutto quando vado in nuove zone Quindi mi deve caricare il terreno E quindi è una rottura di cazzo C'è la curvatura terrestre Così il caricamento non fa del tutto cagare Quando vai in nuove zone E vaffanculo Bravissimo Nake Ricordo che questo mondo è in hardcore Quindi muoio e Basta devo cancellare Qua c'è uno Ehi su camera Sì Bravi Combattitemi vincendo Chi vincerà? Bravissimo Sai cosa hai vinto tu? Vieni qua Hai vinto la morte Dunque mi dà questo effetto qua Che non so se mi piace o no sinceramente Perché è bruttino da vedere Però è tipo Mi dà del feel di Minecraft Quindi non è male Diamonds Intanto si vede anche quando ho l'armatura addosso Guarda Tolgo Metto Mi piace un sacco vedere il mio corpo Non so perché Cioè Il mining Con l'unica cosa brutta della mod Del fatto che si vede il corpo È che Non vedi un cazzo con lo scudo Let's go Ecco Una cosa che mi dà molto fastidio E si nota in queste caverne buie Sono questi piccoli glitch grafici Ah sì Altra cosa figa è che I mob ti guardano Cioè C'hanno proprio gli occhi animati Quindi Ti seguono con lo sguardo Figata Ciao mamma Con YouTube Ehi Non sono diamanti Ma è comunque Interessante Questa è una caverna Di Un warden Oh signore Ci sono dei Butt Che stanno facendo casino Quello lì è esattamente il blocco Che non volevo vedere Da lì si evoca il warden Quindi noi Furbescamente Andiamo Attorno Ehi Se avessi un secchio d'acqua Sarebbe più facile La sito Gli non lo starò Spiega Vaffanculo al cri Ok Situazione di merda Situazione di merda Situazione di merda Situazione di merda Ho bisogno del cibo Mi sono Salvato in corner Una freccia e morivo Aspettiamo un attimo Ci rifigliamo la Cioè O ti prendono la sprovvista I mob proprio In quel caso Ci puoi fare poco Oppure sbagli il timing Cioè Ci sono due cose In sto gioco In realtà E sono queste due Che ho appena elencato E però Non capisco Dove siano i diamanti Qua 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 Grazie a tutti.